Sulle sorti più immediate della discarica di Timpazzo, nonostante le tante convocazioni delle ultime settimane, l'Assemblea della SRR4 sembra non trovare una quadratura anzitutto politica. Le assenze si ripetono quasi sistematicamente anche nel pomeriggio di ieri, niente numero legale per valutare le azioni che il Consiglio di Amministrazione intenda attuare, anzitutto per contestare quanto disposto dal recente decreto del Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti che, oltre a delineare una revisione dell'AIA del 2013, depenna il limite massimo giornaliero di conferimenti che era fissato a 450 tonnellate. L'Amministrazione comunale teme che nell'arco di pochi mesi la Vascae possa andare incontro a saturazione, bloccando l'intero sistema dello smaltimento dei rifiuti del territorio. Alla convocazione di ieri hanno risposto solo il Comune di Gera, con l'assessore Cristian Malluzzo, delegato al sindaco Lucio Greco che era impegnato nel confronto con il commissario Zess e sindaci di Buter e Mazzarino. La convocazione è partita al presidente del CDA della SRR4 Filippo Balbo. L'Amministrazione comunale non esclude che possa esserci una sorta di volontà di non decidere ormai diffusa nell'Assemblea e nel CDA, anche per non porsi contro i piani del governo regionale che su Timpazzo sta concentrando i conferimenti che arrivano da diverse zone siciliane, ancora adesso in quasi totale emergenza rifiuti. Due settimane fa il presidente Musumeci ha annunciato la scelta del territorio cittadino per il progetto di quello che ha definito termovalorizzatore, anche se i manager che hanno avanzato l'investimento escludono che si tratti di un sistema di incenerimento dei rifiuti. A questo si aggiunge la strategia definita Palermo con quantitativi ulteriori di rifiuti quotidianamente concentrati a Timpazzo, ora anche senza un avvincolo massimo. La Astasi, che sembra aver catturato l'Assemblea della SRR4, non piace affatto né all'avvocato greco né all'assessore Cristian Malluzzo, che invece vorrebbero iniziative forti per salvaguardare la piattaforma di Timpazzo. Il primo cittadino e l'assessore all'ambiente hanno ufficialmente scritto al presidente dell'SRR4, Filippo Balbo, ai comuni dell'ambito. Pongono un interrogativo su tutti, si chiedono infatti se sia davvero nelle intenzioni dell'organo di rappresentanza agire concretamente e subito per il doveroso rispetto delle esigenze comuni dell'ambito. Greco e Malluzzo fanno capire che probabilmente allo Stato manca una vera spinta ad agire contro il provvedimento che depenna il limite massimo di conferimenti giornalieri a Timpazzo. Nella missiva usano forti espressioni, è ormai del tutto evidente, si legge ancora l'aberrante proposito di fare della sola discarica di Timpazzo l'unico centro possibile di smaltimento dei rifiuti in Sicilia. Si fa inoltre richiama ad una dissennata gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell'isola. Per l'amministrazione comunale deve essere direttamente il CDA ad agire senza ulteriori perdite di tempo. Nelle scorse settimane i vertici delle impianti SRR e la società che gestisce Timpazzo hanno autorizzato un ricorso al TAR per bloccare gli effetti del provvedimento del dipartimento. Il sindaco e l'assessore attendono però che anche la SRR 4 si muova ufficialmente per impedire una sorta di effetto di non ritorno qualora la discarica dovesse saturarsi senza altre soluzioni praticabili. L'assemblea tornerà a riunirsi già oggi in seconda convocazione.